I vigili del fuoco di Portogruaro, Motta di Livenza e Maestre sono intervenuti in A4 per un incidente che ha coinvolto quattro autovetture tra Sanstino e Portogruaro in direzione Trieste. Tra le quattro auto incidentate, una alimentata a GPL si è incendiata, salvo il conducente. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi e spento l'incendio dell'autovettura. Cinque i feriti assistiti dal personale sanitario del 118. Sul posto la polstrada e il personale ausiliario dell'autostrada.